A che cose crede il poeta? 1929. Nella nostra epoca il poeta, nel quale si incarna il tipo più puro dell'umanità dotata di un'anima, si trova preso in mezzo fra il mondo delle macchine e quello dell'attività intellettuale organizzata, come in uno spazio senza aria, dove è condannato a soffocare, già che il poeta è appunto rappresentante e paladino di quelle forze, di quelle esigenze dell'uomo alle quali la nostra epoca ha dedicato la più fanatica delle guerre. Accusare di ciò la nostra epoca sarebbe una sciocchezza. Essa non è né migliore né peggiore delle altre. Per chi può condividere i suoi obiettivi e i suoi ideali a un paradiso, è un inferno per chi invece le deve opporre resistenza. Per noi poeti è dunque un inferno. Il poeta, se vuol serbarsi federe alla propria origine e alla propria vocazione, non può aderire al mondo ebro di successo che si impadronisce della vita per mezzo dell'industria e dell'organizzazione, e neppure al mondo dell'intellettualità razionalizzata, che oggi domina per esempio nelle nostre università. E poiché l'unico dovere del poeta è quello di essere servo, paladino e cavaliere dell'anima. Nella fase attuale del mondo egli si vede condannato a una solitudine e a una sofferenza che non sono di tutti. Assai pochi poeti ha oggi l'Europa e nessuno fra essi è privo di un tratto di tragicità, per non dire di don chisciottismo. Per contro essa brulica di quella sorta di poeti, prediletta dai lettori borghesi, che impiegano il loro talento e il loro gusto nell'esaltazione di quegli ideali e di quei valori che figurano appunto nell'agenda del borghese. Oggi la guerra, domani il pacifismo, eccetera. Ma di coloro che possono veramente definirsi poeti, non pochi periscono, ridotti al silenzio, nello spazio senza aria di questo inferno. Altri, per contro, si addossano la sofferenza, vi si riconoscono, si sottomettono al destino e non si ribellano quando vedono che la corona dall'oro in altri tempi imposta ai poeti si è mutata oggi in una corona di spine. A questi poeti va il mio amore. Sono essi che onoro, che amo e di cui voglio essere fratello. Noi soffriamo, ma non per protestare né per imprecare. Nell'aria, che per noi è irrespirabile, del mondo delle macchine e nella barbara indigenza che ci opprime, noi soffochiamo. Eppure non ci separiamo dal tutto. Accettiamo il soffocare e il soffrire come la parte che dobbiamo prendere ai destini del mondo, come la nostra missione e la nostra prova. Non crediamo a nessuno degli ideali di quest'epoca, non a quello dei generali né a quello dei bolshevichi o dei professori o degli industriali, ma crediamo che l'uomo sia immortale, che da ogni deformazione la sua immagine potrà risorgere risanata, da ogni inferno purificata. Non cerchiamo di spiegare la nostra epoca né di migliorarla né di ammaestrarla, ma di sempre nuovamente schiuderle, svelando il nostro dolore ai nostri sogni, il mondo dell'anima. Quei sogni in parte sono tristi sogni d'angoscia, quelle immagini sono in parte visioni terrificanti, ma non possiamo abbellirle, non possiamo truccare la verità. Questo lo fanno a sufficienza i poeti, tra virgolette, che servono a intrattenere i borghesi. Noi non nascondiamo il pericolo che corre l'anima dell'umanità, l'abisso a cui è vicina, ma neppure possiamo nascondere che crediamo alla sua immortalità.